Musica Ciao a tutti ragazzi, benvenuti in questo nuovo video della Pixelmon Sono incazzato stasera, stasera sono incazzato, basta, ho sorto il cazzo, via, via, basta, via, via Pure i semi, sì, via, basta, 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 no, aspetta, la stona, la stona la riprendo No, la stona la voglio, la voglio, l'ho fatta col carbone Basta, basta, sono stufo, via Non costruisco più, mi sono stufato, via Ok, basta, non costruisco più, fine, chiuso, completo, via, la stona la mettiamo da parte perché ho lavorato Ok, fine, ok, fine, basta Si spuderei addosso, stupido muro, solo che questo personaggio lo spuda Basta, voglio giocare anche qua, mi sto stufato Anche se devo combattere un PGL 11, vai Giro a fuoco, giro a fuoco, fai le spin ragazzi a giro a fuoco Eh, eh, gli ho fatto Gli ho fatto zero danno Ma troppo sei dollari un PGL Ok, PGL, PGL, vieni qui PGL, ok Antonis Non fa effetto perché è normale, è vero e immune 4 dollari, ma troppo, perché non mi tropparo 4 dollari e 6 dollari, PGL Oh mio Dio Ok, allora ragazzi, questo episodio, come potete vedere, io non costruisco gioco con il Pokémon Basta, mi sono stufato Datemi, datemi un allenatore C'era un allenatore Che fine ha fatto? Perché gli FPS bassi? Che, che cavolo, che, che ti laghi? C'hai problemi? Eh? Laggo? Perché laggo? Non c'è motivo per cui vi preparo la gara, quindi basta Ok, mi sono, mi sono risistemato gli FPS Ogni tanto mi sfanculo Ok, qui ci stanno roba normale, grave, lì ci sono delle chest Quelle chest mi, 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 mi dicono, non lo so, vieni, vieni a prendere Sono tua Sei mia, vieni qui, mia Ah, queste sono quelle con cui abbiamo scavato, ricordate? Che volevo fare il muro di spintagliucco, ma se io tipo qui gli faccio lo scherzetto Gli faccio trovare tutto il muro È qui tutto aperto, cioè alla fine non è che Un po' qui che c'è, robetta Ma non mi, non mi, non rubo niente, ragazzi, non ho bisogno di rubare Non è necessario, ormai, ormai siamo tutti, tutti insieme Siamo tutti in una famiglia, siamo tutti Network, 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 network Ho fatto pure notte, nemmeno troverò il Pokémon che voglio Perché io voglio il Pokémon d'erba Ma sto orto tipo abbandonato qui? Ma perché qui scende e risale? Che c'ha sto ponte? È un ponte meno mato, cioè che problemi hanno oggi? Anche qui scende e risale Ma si divertono, cioè, vabbè, proprio qui, qui passa una macchina E rimane, pam, inchiudata, sai, assicurazione, chi la paga Allora, vediamo un po', lì abbiamo un albero, qui abbiamo un allenatore Vieni qui Tu cosa sei? Ah, pensavo fossi un raro, perché l'ho visto verde C'è un intruso in casa di chip Intruso, intruso, sta scappando, sta scappando Guardie, ladri Guardie, guardie, è scappato Sta scappando, prendetelo Vieni qui Tu sei un ladro, lo stai rubando in casa di chip, eh? Io lo so quello che stai facendo, eh? Sei del Team Rocket? Ti faccio vedere io che ti combino Ok, G-Dude l'ha ucciso Vai, gira fuoco E il Team Magma non avrà mai questa casa Non è il Team Rocket, vabbè, quello che sia E c'è il vestito rosso Ok Fai spin Ho mandato Spiro? Il tuo Spiro non sarà mai forte quanto il mio lampadario Ho mandato G-Dude Antonis È sopravvissuto Ma quanto fa schifo sto lampadario Sì Ho sconfitto il membro Ho salvato la casa di chip, ragazzi Mamma mia Merito una medaglia Adesso arriverà Lance dei Super 4 Che mi darà Grande, ragazzo Sei stato fantastico Adesso stiamo qui e aspettiamo Lance, ragazzi Ci mettiamo qui sopra Arriverà a momenti Aspettiamolo Magari ha perso l'autobus Dai, arriverà Ho fatto la buona azione Lance, dove sei? Mannaggia Mangiamo Facciamo un piccaniclo Nel frattempo io mi siedo qui Aspettiamo che arrivi, magari Ho finito anche i panini Non viene nessuno Ma io ho fatto una buona azione Vabbè Vabbè Andiamo a vedere questo Hunter che lì lo è 28 Sei mio Deciso Comunque, ragazzi La questione lampadario Adesso, passando Dallo scherzoso Al serio Lo so, ragazzi Purtroppo So così Quando uno c'ha la capoccia dura Eh, c'ha la capoccia dura Io finalmente fino ad adesso Mi stavo a divertire Adesso devo far rompi i cazzi No, vabbè Non lo faccio Basta, adesso continuo a divertirmi Poi nel prossimo episodio Faccio un rompi palle Va bene Faccio un episodio divertimento Un episodio rompi palle Nel prossimo vi scasterò Tutte le storie che mi avete fatto Questo lampadario Vi faccio vedere io No, scherzo Ok Oh Ma sto Hunter muore in settimana Mano, ma tanto pire Ah, sei svegliato Qualcosa mi sta uccidendo Che mi ha bruciato Ah, non ho più Ah, non ho più Eeeh Bracere Va bene Sta morendo un lampadario Da un Hunter al 28 Quanto fa schifo L'lampadario così Oh, un 924 Ah 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 Maledizione Hit my ass To make the target flinch Eh, mi tenta però Curse sinceramente That work differently for the ghost Quale dei due Curse o Antonish Antonish è bella mossa Perché lui che è tipo Spettro Quindi c'è il bonus su Antonish Se tolgo bracere Per tanto c'è giro fuoco Quanto fa giro? Ah, giro fuoco è un dotto Non lo devo spammare Che figura di Che fail Giro fuoco è un danno Che rimane con il tempo Quindi tu sarò una volta E poi do dei bracere Ok, quindi tolgo vedeno Poison Smog Anche se non è brutto Avvelenare l'avversario Ragazzi ho paura A tornerla Allora mi spiego Bracere è per far danno fuoco E non c'è dubbio Fear spin è per fare danno fuoco Ma dura Rimane Rimane Quindi io vorrei lasciarla Fare spin Certo andrà se tolgo fare spin Per tanto poi Bracel era in piazza Fare spin è una bella mossa Però rimane bruciato Per 5 turni Da 4 a 5 turni Per 4 5 Fino a 5 E questo è Un po' dubbioso Che dite? Non voglio fare una cazzata Allora Braceli dove fa danno fuoco Fare spin è forte Anthony c'è l'unica Capito? Lui è ghost Lui è ghost Quindi ha il bonus Su Anthony C'è il 50% più Perché è stabbato Perché essendo tipo È tipo ghost È ghost fire Giusto? Non vorrei dire una cazzata Lui lampadari è ghost fire E smog Smog Vabbè tolgo smog Perché tanto faccio fare spin Se brucio non posso avvelenare Quindi tolgo smog Ok Perfetto Perché se è bruciato Non può essere avvelenato Quindi se io faccio fare spin E lui c'ha il dot Del fare spin Però avvelenato è un altro Vabbè Al massimo Watson al 45 Andy al 17 Wow Andy La tua La tua espressione gioiosa E piena di felicità Mi rende tipo Ah La flardia fresca Non muori Pezzo di zero L'ho ritardato Bracere Eh Faccio più male con Bracere A sto punto Perché sono stabbato Faccio 60 Invece che 40 Eh E dai Sider muori Bella Bella Pure Paras Mazzo tutti Ammazzo Oh Stracciato proprio Allenatore distrutto Ok adesso andiamo da questo 44 Vediamo Ecco Sto doduo mi fa male Fire spin Non c'ho più P Bracere Ma ho usato un attacco Che non ha effetto su di me Ok Perforbecco funziona Perforbecco mi ha fatto male L'ho sentito col perforbecco Devo ammetterlo Aia Che cazzo di dolore Che hai mai fatto Tuono No no ragazzi Oh Oh ma è serio di livello Jonathan è al 49 PG pure Tuono su PG Come è che mi frega Vai Mi ha usato urbine E io tuono Pidget E che me frega Io tuono Pidget E che me frega Io tuono Notare l'X più in basso a sinistra 3.600 3.600 3.600 Bam 50 Jolt GG raga No cioè GG Blocchiamo livello Sì E vado a curare il mio Pokémon Andiamo qui da Chip Dai Andiamo a curarci subito il Pokémon C'è pure una macchina a scambio C'è l'Envil Oh Chip è attrezzato Bravo Chip Bravo Ma vedo Gli do pure un'occhiata nelle ceste Magari da Chip c'è qualcosa da prendere A differenza degli altri Magari Chip è un po' più ricco Sai qui Big Money Paga Paga Andiamo un po' Andiamo un po' qua dentro Se c'è Allora Mmm Un pistone appiccicoso Questo è mio Io ti voglio bene Chip Ma vabbè No io lo lascio Le Ender per Oh il grano No no Le Ender per È il grado Questo Power Brown Brown che cos'è? So i Cocoa Beans Vero? È il cacao Vero? Ci puoi fare i biscotti Sì Ah ok Il grano gli serve per fare i biscotti Gli lascio Aspettate Quanti ne vengono fuori Scusami Per curiosità Cioè io ho fatto 48 biscotti No 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 Aspetta Fermi tutti 48 biscotti Ok dovrò fare un giretto da Luke A prendermi quel cacao Che c'è dentro a quella porticina Adesso ho capito il loro piano Interesting Interesting Lampadaria Ammazza sto cadabro po'? Allora io non conosco i tipi Allora fatemi studiare un po' i tipi Lampare Tipo Ghostfire Ghost è super efficace Su Psico Non ne ho idea Proviamo Faccio Anthony Anthony sul cadabro Il super effetto Ok So che Ghost è super efficace Su Psico Ok interessante Interessante Andiamo a vedere Oh quindi devo ammazzare Guarda quanti castli Quanta exp Ah no loro sono tipo Ghost Però loro sono Ghost Psico Non loro sono Ghost e basta Che cazzo sono? C'è anche un Leatwick Ragazzi lo sapete che questo Cazzettino è il primo stadio Del mio lampadario? Cioè quel lampadario diventa Cioè quel cazzettino diventa Il mio lampadario? C'è questa specie di lampadario qui Guarda come gira Che carino che sei Ma c'ha gli occhi tipo C'ha anche gli occhi Non l'avevo mica visti Oh Ma cazzo Micchia guardi Pezzo di zero Guarda un po' Oh Oh Lì c'è a casa di quel babbo Quel babbo Bello No no ragazzi Questa serie è fantastica 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 C'è più che altro per i partecipanti Capito? Tutti 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 GG GG a tutti i partecipanti Perché non c'ho assolutamente nulla da ridire Un Leatwick al 19 Mi sfida Kaiogra a 70 Comunque ragazzi Come vi ho detto nel video scorso E dovevo chiedere conferma per il livello 60 E a quanto pare hanno tutti dato l'ok Per il livello 60 Quindi il limite di questa settimana è 60 Quindi adesso Andrò ad andare sul summary Di tutti i pokemon Yes E abiliterò il livello up su tutti Quindi ragazzi c'è da expare 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 I prossimi episodi saranno moolto Exposi pixel monosi Livello up Sì Guardate che Cioè io se guardo questo Che cosa sono mossi Cioè qua Zenetbat Dragon Breath Sgranocchio e volo Cioè sgranocchio Una mossa Buio Che fa 80 Di potenza E 100 di precisione Anche se non ha lo stab 80 Cioè Basta Se scelgo un tipo L'ammazzo Oh 44 Ma sai questo mi fa livello Salavent Salavent È sparito Raga è sparito Che pokemon è È un enderpearl Vedevo Vedevo un colore strano Dicevo Ma che cazzo Dei pokemon È un enderpearl Non era un pokemon Mi sa che è morto un cadavro qui Ragazzi ogni tanto Mi sto allontanando da casa Non so dove Oh Ciao Matt Ciao Matt Vieni qui Sighter Bracere Dammi la tua exp Eeeh Tutto qui Notare che ho fatto 60 dollari E 3 dollari Cioè Ragazzi 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 Io Non voglio solo darvi qui Non voglio ma 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 Vi lascio al prossimo video Perché adesso ho sbloccato tutti i pokemon E Ho lampadaria al 45 E Ecco Facciamo questo Batto su allenatore E poi vi saluto Ok Ok E Questo Oh ma lui è Arturo Un amico di Vale Ho fatto Ho fatto fire spin È andato Boh Mi sa che non l'ho preso con fire spin Vero Pidgeotto usa Eeeh 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 Non è turbine Eeeh L'ho detto prima Cavolo L'ho detto 30 secondi fa Cacciola in questa testa Eeeh Non è turbine Raffica Raffica Gusto e raffica Sì Mi sono ricordato Oh ma sto cider muore al 34 E dai No Stiamo a pascola ai giraffe Oh Allenatore sconfitto 2058x Non ha livellato No No Vabbè ragazzi lo facciamo al 46 Dai ma io passo al 46 Ma perché No ragazzi io Cioè La questione è che io voglio giocare Solo che non posso fare video da 8 ore Cioè Cioè Io Io ringrazio tutti quelli che mettono il mi piace Tutti quelli che seguono i video Che sentono tutto quello che dico Tutte le cazzate Le stronzate E ringrazio tutti Soltanto che c'è Qualcuno Che non la pensa allo stesso modo Purtroppo E quindi Sono brutte cose Vabbè Ma siamo stupabbo È debole? No Lui è resistente? No Però io dovrei essere immune Perché lui è fisico È soft ghost Quindi sono immune Mamma mia Lo pare dico? Curse? Machocca è afflitto dalla curse? E dai ma sotto revenge Ah ho vinto Ah non ha effetto Mi ha detto Oddio Pensavo di essere morto È morto dalla Cioè quanto danno fa quella maledizione? Scusatemi L'ho ucciso Aveva metà vita What? Che cos'è qui? Perché qui devono far laggare il server? Guarda che hanno fatto Vabbè Andiamo avanti Non sono interessato Slow Slow bro Mio Al 43 E io sono anche debole acqua Ma se ti mando tipo Joltion? Joltion vieni Vedete Cioè io Io volevo chiudere Però voglio giocare Capito? È una droga Toccazzo di giocare Vabbè ragazzi Per questo video è tutto E ci vediamo nel prossimo video In cui andrò a Spare Lampadario Nostro amatissimo Lampadario Li vedo qualcosa? Oh mio dio Un pori wheel Io ragazzi Pensavo fosse tipo Un mail box Quanto cazzo Quanto è brutto Scusate la parolaccia ragazzi Quanto è brutto Oh mio dio Sei mostruoso Sei un mostro Un abominio Joltion 51 Vabbè ragazzi Per questo video è tutto Ciao a tutti Mi raccomando Se vi è piaciuto Spolliciate E nel prossimo Andremo Ciao a tutti